Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere insieme come ho impostato i quadranti del mio Apple Watch e vi parlo un pochino di come lo utilizzo durante la giornata. Vorrei fare una piccola premessa perché ieri appunto come vedete dal data non siamo più al 26 ma siamo al 27 quindi il giorno in cui voi vedete questo video. Allora, innanzitutto mi sono dimenticata di dire che dato che io ho l'Apple Watch con la connessione cellular quindi con Vodafone ho attivato One Number mi sembra che si chiami e con 5 euro al mese ho la connessione su Apple Watch quindi posso uscire senza iPhone dato che appunto avevo fatto questa scelta, cioè in realtà il modello in acciaio non ha scelta ha solo la connessione cellular. Comunque appunto dato che ho questa possibilità volevo dirvi che la mattina io quando esco con Cobi porto solo l'Apple Watch perché in caso mi dovessero chiamare o mandare dei messaggi importanti comunque ho l'Apple Watch che me li fa arrivare. Allora, questo è il mio Apple Watch. Io ho un serie 5 in oro, quest'oro è meraviglioso, io proprio sono innamorata di questa tonalità di oro e al momento ho un cinturino rosa sabbia però l'ho comprato in acciaio come vedete perché io amo l'acciaio nell'Apple Watch mi sembra più elegante, adesso vabbè ci sono tutte le ditate, quello è un difetto dell'acciaio però insomma mi sembra più elegante, si rovina meno perché Franci ce l'ha sempre avuto invece in alluminio e gli si è sempre rovinato di più rispetto ai miei in acciaio anche se lui lo usa addirittura meno di me comunque appunto l'ho scelto in acciaio con la cassa da 40 mm poi vi mostrerò anche la cassa da 44 mm che è quella appunto che ha Franci, mio marito e l'ho comprato con la maglia milanese perché io mi trovo molto molto bene con la maglia milanese quindi ho deciso di acquistarlo con quel cinturino perché appunto lo si può regolare come si vuole è molto elegante e io volevo appunto qualcosa del genere probabilmente con il prossimo Apple Watch anzi quasi sicuramente passerò alla cassa da 44 mm perché nonostante questa per il mio polso sia giusta sta bene anche quella da 44 e se posso avere uno schermo un pochino più grande visto che comunque l'Apple Watch è piccolo lo preferisco allora intanto andiamo a vedere quadranti e come lo utilizzo ve ne parlo insieme perché comunque sono cose correlate innanzitutto come avete visto io ho il codice di sblocco perché ovviamente utilizzandolo con Apple Pay ho inserito il codice di sblocco altrimenti sarebbe pericoloso andiamo a vedere i quadranti sono in ordine di utilizzo diciamo durante la giornata ho un quadrante per la notte quindi appunto questo ha tutte delle complicazioni e delle applicazioni che mi possono servire la notte e questo è l'infograf modulare no l'infograf scusate e basta appunto come vi dicevo io utilizzo l'Apple Watch la notte quindi lo ricarico quando è al 30% non sto a guardare se lo ricarico il giorno o la sera quando è scarico quando è al 30% io lo ricarico e su Apple Watch ho impostato come vedete tutte le mie sveglie quindi ho la sveglia alle 6 e 45 non le ho impostate con sonno ma le ho impostate proprio come sveglie normali ho la sveglia alle 6 e 45 per i giorni infrasettimanali alle 7 per il sabato e quella della domenica in realtà è da cambiare perché l'avevo spostata questa domenica che mi sono svegliata un po' prima ma ho una sveglia alle 8 e 00 perché se dormo di più poi sto male quindi appunto ho anche questa sveglia come vi dicevo quindi ho la sveglia su Apple Watch perché tenendolo sempre silenzioso praticamente lui mi vibra e io mi sveglio tranquillamente senza troppi traumi di risveglio all'interno di questo quadrante quindi l'infograf ho la batteria che ovviamente mi serve vedere il momento di alba e tramonto non che mi serva particolarmente però appunto non sapevo cosa metterci quindi ci ho messo quello poi ho il calendario poi ho Forest perché la sera ogni tanto lo usiamo con il gruppo Telegram per fare delle sessioni di lettura quindi dato che questo è il quadrante della sera e della notte ce l'ho qua il metro così almeno appena sveglia vedo subito il tempo cioè come si prospetta la giornata le fasi lunari anche se non è che mi servano principalmente però appunto mi piace averle su questo quadrante mi piace che ci sia una luna lì sul quadrante anche perché non si vede nulla quindi se anche ci clicco sopra purtroppo non si riesce a vedere niente però mi piace averla lì sul quadrante ed infine ho Autosleep che è l'applicazione che utilizzo per tracciare il sonno lo fa anche Apple Watch però non lo fa abbastanza approfonditamente come vorrei io quindi utilizzo Autosleep una volta sveglia se faccio una passeggiata particolarmente fra virgolette importante con Kobe metto questa applicazione cioè metto questo quadrante che è il quadrante attività se non sbaglio si chiama proprio esatto attività digitale quindi ha l'orario, gli anelli, la batteria qua su per far partire ah no scusate questo è Workout quindi è l'app Strix Workout e qua giù gli allenamenti proprio di Apple andando avanti c'è poi il quadrante che io utilizzo durante tutta la giornata quindi adesso praticamente vi sto dicendo come utilizzo l'Apple Watch durante la giornata quindi una volta tornata a casa dalla passeggiata o se comunque non utilizzo quel quadrante durante la passeggiata vado a impostare il quadrante produttività chiamiamolo così questo invece è l'infografo modulare in cui ho la data che però rimanda direttamente al calendario non è la data collegata al calendar 366 anche se si può fare la batteria qua ho Sorted l'app che utilizzo al momento per pianificare proprio le giornate vi lascio qua nelle schede il video in cui ve ne parlo Things 3 che è l'app che io preferisco per le cose da fare al centro sempre il meteo e qua ho l'app Focus che è un'app di pomodoro diciamo per il timer pomodoro però non sono riuscita a farla funzionare da Apple Watch perché come vedete se io ci clicco sopra mi dice Time to Focus e basta ho provato a farla partire dall'iPhone per vedere se semplicemente è tipo Forest che Forest non si può farla partire da qua ma mi fa vedere il tempo residuo sull'Apple Watch ma non sono riuscita a capire come funziona quindi questo è quanto adesso sono finiti i quadranti più legati alla produttività ed iniziano quelli più per uscire in realtà ce n'è uno che è un mix tra produttività e quadrante per uscire perché è questo quadrante qua che è il GMT dove c'è l'orario di Edimburgo perché sono fissata con Edimburgo e quindi ci ho messo l'orario di Edimburgo ma pazienza qui c'è la batteria come vedete ce l'ho praticamente sempre perché mi serve vedere sempre quanta batteria residua ho in modo da metterla in carica quando ne ha bisogno qua c'è sempre calendar 366 che come vedete è molto più completa dell'app calendario per Apple Watch qua ho la mia amatissima Things 3 e qua ho Forest però vediamo adesso se posso andare a sostituirla con Sorted vediamo perché se c'è preferisco avere Sorted in quel punto esatto non è che sia proprio il massimo perché come vedete vi dà solo le attività svolte e quelle ancora da fare però perlomeno ce l'ho c'è un'app che utilizzo di più mentre lavoro quindi questo delle volte lo utilizzo anche per lavoro perché mi può essere utile questi sono quadranti che uso principalmente per uscire e basta quindi il quadrante di Minnie che io adoro e Minnie non so se lo sapete ma parla se cliccate su di lei vi dice l'orario io l'adoro però io tengo sempre l'Apple Watch silenzioso quindi non me ne accorgo anche perché delle volte mi capitava che partisse a parlare in dei posti magari in cui ero ad ascoltare che ne so insomma una riunione qualcosa del genere quindi ho tolto proprio lo tengo sempre silenzioso poi abbiamo il meteo come sempre la batteria e qua giù in basso calendar 3,66 oppure questo è proprio calendario non ricordo infine altro quadrante per uscire questo è proprio base 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 quindi solo orario e batteria è questo con i fiori è bellissimo perché ogni volta che alzate il polso ha un fiore diverso quindi i quadranti sono finiti adesso vi mostro un attimo velocemente le app ho 3b meteo allenamento altitrack che è un'app che serve per l'altitudine per vedere l'altitudine cosa che nel 6 c'è in automatico ma nel mio no l'app store apple store attività audible fantastico averla anche su apple watch audiolibri autosleep questo era per il volo da londra battito cardiaco bfocus pro è un'app che uso delle volte come timer pomodoro bussola calcolatrice calendar 3,66 calendario comandi countdown serve per inserire dei countdown come complicazioni cronometro deluxe moon pro è meravigliosa è proprio un'app guardate che meraviglia è un'app meravigliosa per iphone proprio molto completa sulla luna e anche la sua app per apple watch secondo me è fatta molto bene poi questo è sempre un countdown quindi dream days è sempre un countdown non si vede niente l'ecg filmic pro è fantastica perché comunque mi permette di usare l'apple watch come mirino per l'iphone anche la fotocamera normale lo fa però filmic pro dovrebbe essere più professionale focus e forest come vi dicevo prima sono per la concentrazione foto fotocamera google maps questo serve per le sessioni di esercizio impostazione riproduzione intervals pro mi serviva per per allenarmi sulla corsa interval è sempre vedete un countdown kumut serve per appunto tracking e cose del genere mail mappe memo vocali memoji messaggi meteo monitoraggio del ciclo musica my team night run club note shelf l'ho tolta mi sa dall'iphone però è comoda perché comunque si può registrare una nota vocale e quindi puoi ritrovarsela sull'app e sull'app sull'iphone ed utilizzarla se vi serve ore locali parcel per le spedizioni podcast pro camera pro memoria radio reflex camera quindi tutte di fotocamera remote respirazione rumore sleep recorder serve per registrarsi durante la notte l'ho fatto perché franci mi ha detto che canto e volevo sentire cosa cantavo non lo so cosa canto però canto sonno sorted spotify questa serve per vedere le stelle però qui non si vedono ovviamente step dog è carino perché è un cagnolino vabbè adesso ok è un cagnolino praticamente che a 10.000 passi al giorno si addormenta quindi vi fa fare 10.000 passi al giorno sto card per le carte streaks workout appunto serve per fare dei workout che sono già preimpostati nell'app sveglie seagic travel è di un navigatore però più improntato per i viaggi tabi calc telefono telegram things quindi appunto i miei promemoria timer tren italia trova persone walkie talkie wallet e watch anything serve per mettere per esempio come una foto in una complicazione siamo come vi ho detto anche all'inizio al 27 sto girando alcune clip dopo aver già girato tutto il video perché ieri sera è uscito ios 14.5 che ha portato come sapevamo una novità fondamentale per chi ha iphone e apple watch perché c'è la possibilità adesso di sbloccare con apple watch quindi come dice qua il trafiletto utilizza la connessione sicura ad apple watch per sbloccare l'iphone quando una mascherina impedisce a face id di riconoscere il tuo volto apple watch deve essere nelle vicinanze indossato al polso sbloccato e protetto da un codice lo proviamo subito io adesso non ho la mascherina ma mi terrò tipo un attimo il cappuccio della felpa davanti alla bocca e vediamo come funziona perché io non ho ancora provato sinceramente allora proviamo come vedete un po' anche dal dal riflesso metto la felpa davanti al viso e proviamo allora si è sbloccato e mi è arrivato ecco come vedete un feedback aptico su apple watch e c'è scritto iphone 12 pro max sbloccato pro max scusate sbloccato con questo apple watch ok adesso è sparito comunque mi diceva se lo volevo eventualmente bloccare perché ovviamente se non siete stati voi a sbloccarlo potete anche tramite l'apple watch bloccare tutto e evitare appunto che ve lo risblocchino nuovamente allora ho messo la videocamera grandangolare perché altrimenti non riuscivo a mostrarvi entrambi i polsi comunque vi volevo mostrare la differenza di dimensioni tra il 44 e il 40 quindi ne ho messi uno messi su entrambi i polsi non c'è una grandissima differenza effettivamente infatti come vi dicevo io passerò al 44 sicuramente con il prossimo apple watch perché non è brutto sul mio polso da vedere io ho un polso molto sottile di 14 15 centimetri anzi più 14 che 15 il problema è solo che con la cassa da 44 millimetri alcuni cinturini non li fanno per esempio la maglia milanese che ha preso Franci a me sta grande quindi proprio quando vado a chiuderla mi va sull'apple watch quindi non la posso prendere e fanno una misura sola di maglia milanese aiuto poi i cinturini quelli solo loop solo braided loop partono dalla 4 mentre io ho la 2 come dimensione quindi casomai guarderò se prendere cioè se prenderne uno online cioè scusate in negozio quando insomma riuscirò ad andare quando poi prenderò il nuovo apple watch non è adesso quindi non è un problema e basta quindi questo era il problema principale della cassa più grande però come vedete non essendoci una differenza abissale sicuramente andrò sulla cassa più grande in modo da avere più spazio niente questo era tutto per questo video adesso farò anche la copertina così così almeno sono a posto noi ci vediamo martedì no venerdì probabilmente con l'unboxing dell'airtag perché mi dovrebbe arrivare prima del previsto e anche se non mi arrivasse prima del previsto ma mi arrivasse direttamente venerdì voglio registrarlo e editarlo subito quindi magari lo vedrete la sera però comunque lo vedrete lo stesso venerdì spero noi appunto ci vediamo venerdì con il prossimo video e spero che questo vi sia piaciuto in tal caso lasciatemi un pollicino in su e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video io vi mando un bacione e al prossimo video ciao 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 ciao